E' nato anche un comitato cittadino, Comfer, che riunisce sia Chieti che Pescara proprio per mobilitarsi contro questa variante, questo raddoppiamento della linea ferroviaria che si potrebbe comunque realizzare a poca distanza da qua. La signora Luciana è un'altra delle persone che vedrebbe abbattuta la propria casa, che è questa alle proprie spalle. Da quanti anni abitate qua? Io mi sono sposata, quindi 42 anni che stiamo qua. Naturalmente sarebbe una scelta per voi da evitare? Certo, perché penso che nessuno abbia fatto una riflessione su quello che significa per una che ha abitato qua 40 anni, sbandonare tutto, andare da un'altra parte, rifarsi una vita da un'altra parte. Ma poi verrebbe separato il paese da una parte, dall'altra, non si sa perché. Cosa chiedete allora? Noi non vogliamo che la ferrovia si fermi, c'è la possibilità di farla dall'altra parte del paese, quindi sarebbe anche meno invasivo perché nessuno verrebbe sfrattato. Quindi perché non sfruttare questa possibilità, visto che hanno fatto anche l'interporto appunto per questo. Il signor Roberto è un cittadino di Brecciarola. Lei cosa chiede, soprattutto anche pensando a quello che sono i disagi che vivrebbero i suoi concittadini, vedendosi abbattere la casa? Ma io voglio puntualizzare soltanto una cosa, non si può progettare una linea ferroviaria con una cartina geografica. Secondo me andrebbe fatto inserendo anche i tecnici locali dove conosce il territorio, sa tutto del territorio. Qui hanno fatto un progetto su una cartina geografica e credo che sia una cosa infattibile, proprio inesistente. Bisogna rivedere il progetto e sfruttare, come già si è detto, la linea ferroviaria dell'interporto che avrà anche a livello economico un costo minore. Questo credo io. Lei cosa dice a questi signori che vogliono abbatterle la casa? Non è solo una questione di… io sono per le opere che si devono fare, si devono fare. Però che devono distruggere cinque paesi perché non è solo la casa mia. la sera sono la casa mia, va bene, è una casa sola, buttiamo la terra. Qua si tratta di… pare che sono 250 case, non lo so. C'è anche un valore affettivo che comunque… L'affettivo prende tutto perché tutti questi lavori che stanno fatti, sono stati fatti tutti, con tanti sacrifici, mutui, debiti, cose e più, dopo tante cose che noi abbiamo sacrificato, delle domeniche, dei giorni di riposo per fare tutti questi lavoretti perché l'abbiamo fatto l'economia, perché i soldi non ci stavano. Reggie 대�般 aldrighi dalla Grazie a tutti.